In Valle di Scalve l'avanzata dei boschi sta diventando un problema e l'allarme lanciato dal presidente della comunità montana Piero Antonio Piccini. L'overe per garantire lo svolgimento del Memorial Stoppani in sicurezza dovrebbero essere previste anche barriere anticamio. Parre, lavoro in corso, la palestra è alla piscina entro la fine dell'anno, un bando per la gestione dell'impianto natatorio. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antena 2. Il ritiro dei ghiacci in Andamello in questi mesi ha permesso il ritrovamento di diversi reperti della Prima Guerra Mondiale. Una milanese di 35 anni, secondo una prima ricostruzione, pare abbia rinvenuto un ordigno. Non è ancora chiaro se una bomba a mano o un colpo di mortaio che ha portato a Valle. L'uomo purtroppo è rimasto investito da un'esplosione avvenuta ieri sera intorno alle 18. Sembra che il reperto portato nel garage dell'appartamento in cui stava trascorrendo le vacanze estive a Vezza d'Oglio sia defragato. Sono ancora in corso gli accertamenti sui fatti. Il 35enne è uscito da solo dal garage con una grave ferita al petto. Purtroppo vani soccorsi, arrivati anche con l'elicottero del 118. L'edificio è stato evacuato per permettere la bonifica del garage dove potrebbero esserci altri reperti trovati sull'adamello. Un incidente stradale si è verificato ieri sera intorno alle 21.40 sotto collina, nei pressi dell'incrocio all'entrata del paese. Una Nissan Qashqai guidata da una 31enne che viaggiava in compagnia del marito quarantenne della bimba di un anno si è scontrata con una Opel proveniente da Piangaiano guidata da una donna pure lei sui 30 anni. In seguito all'impatto la Qashqai si è ribaltata. La mamma e la bambina hanno riportato diversi traumi e sono stati poi portati in ospedale in codice giallo al Papa Giovanni di Bergamo. Illeso il marito che una volta uscito dall'abitacolo ha estratto la moglie e la bimba. Illesa anche la conducente dell'altra vettura. In seguito all'incidente la strada provinciale è rimasta bloccata per circa mezz'ora. Intervento dei volontari dell'antincendio boschivo di Ponte Nossa nel pomeriggio sul Monte Alino di Parre per un incendio che ha interessato mezzo ettaro di incolto. I volontari sono stati allertati poco prima delle 17. Le operazioni sono state coordinate dalla sala operativa della Croce Blu di Gromo. Voltiamo a pagina. Piantare gli alberi è anche una delle azioni previste dall'ONU tra gli obiettivi di sviluppo del millennio. È noto il problema della deforestazione, specialmente nei paesi in via di sviluppo dove si abbattono foreste per fare spazio a piantagioni o ad altre attività. Eppure da noi, paradossalmente, i boschi negli ultimi anni sono stati protagonisti di una rivincita. Tanto che oggi c'è chi segnala i problemi dovuti principalmente all'abbandono dei pascoli. Sentiamo il presidente della comunità montana di Scalve, Pier Antonio Piccini. Ecco Piccini, un tema che lei stesso ha sollevato anche in occasione degli stati generali della montagna è la gestione dei boschi. La filiera del legno è da sempre al centro dell'attività degli Scalvini e non solo della gente di montagna. Ma cosa si dovrebbe fare un po' per rilanciare un po' questo mondo? La cosa fondamentale è capire che c'è una differenza tra quanto sta avvenendo in Val di Scalva, ad esempio, e quanto invece succede fuori. Il tema fuori è la desertificazione. In Val di Scalva abbiamo un eccesso di forestazione, il che comporta delle differenze di intervento e di analisi. Insomma, in poche parole, noi abbiamo una quantità tale ormai di crescita che non ci permette di intervenire in un modo adeguato. Faccio esempio banale, ma d'inverno sulle strade cadono gli alberi, sulle linee elettriche cadono gli alberi. Nella gestione della filiera del legno abbiamo altre necessità. Insomma, è molto problematica e bisogna intervenire in un modo concreto, sia come finanziamenti, sia come proposte di azione coordinata. Un tema è anche quello dei pascoli. Con il tempo i prati hanno lasciato il posto al bosco che è avanzato e anche qui poi si perdono capacità produttive. Esattamente. La Regione in questo ha dato gli anni scorsi i finanziamenti per sfoltire gli alberi e permettere l'allargamento, il mantenimento di pascoli. Ma non basta. Non solo. Bisogna che ci sia chi lo fa. Bisogna avere la possibilità di gestire come fondi delle squadre bosche. In Val di Scalva l'abbiamo, però non sappiamo come portarla avanti perché non c'è un finanziamento adeguato e interviene sulla parte agro-silvopastorale, ma in realtà non sappiamo come gestirla in termini anche di tempo e di esecuzione di progetti. E poi un altro aspetto fondamentale sul tema del bosco è la cura del bosco. Cosa si intende? Se un bosco non è curato nei suoi vari aspetti, il taglio, il portare a casa la legna, il bosco perde valore. Non è solo una questione di bellezza, di estetica, paesaggistica, è una questione molto concreta di valore, di un bene che sempre più si sta deteriorando purtroppo. E anche una questione culturale, lo sappiamo, perché certamente il riscaldamento non è più fatto tanto con la legna da ardere e anche su questo mi sarebbe discutere perché poi voglio vedere come fanno a proporre un innalzamento della quota per bruciare la legna. Insomma ci sono una serie di difficoltà. Secondo me bisogna cercare una proposta integrata tra noi, gente che vive in montagna, e chi organizza dal punto di vista amministrativo, e in questo caso a livello regionale, il tema ambientale. Altrimenti rischiamo appunto di darci o di proporci delle soluzioni che nel nostro territorio, nella nostra gestione, sono impraticabili. E c'è attesa per il Memorial Stoppani, manifestazione con cui all'overe si ricorda l'asso dell'aeronautica militare italiana e pilota collaudatore di idrovolanti. L'edizione di quest'anno, la quindicesima, sarà sicuramente in grado di attrarre un grande numero di visitatori anche per il sorvolo delle frecce tricolori. E per la manifestazione si prevedono misure eccezionali di sicurezza, come nei giorni scorsi sono state posizionate barriere anticamion in città a Bergamo, anche sul lungolago della località turistica del Sebino dovrebbero essere presi provvedimenti simili. In un incontro in Prefettura Bergamo è stato inoltre deciso di garantire la massima sicurezza con controlli ai principali punti d'accesso. Sentiamo il sindaco di Lovere, Giovanni Guizzetti, al termine dell'incontro che si è svolto nei giorni scorsi e intervistato dai colleghi di Bergamo TV. Si è appena concluso il tavolo tecnico che il prefetto ha organizzato in Prefettura per affrontare le problematiche relative all'evento di domenica 3 settembre che si terrà a Lovere e che coinvolgerà tutto l'Alto Sebino con la presenza nell'ambito del 15esimo Emoria Stoppani delle frecce tricolori. Il sorvolo delle frecce tricolori è previsto per le ore 14 e in questo tavolo tecnico si sono affrontati tutti gli aspetti viabilistici, logistici e anche di soccorso relativi alla presenza di un numero di visitatori che pensiamo molto alto. Rimangono da definire i dettagli relativi alla sicurezza perché questi verranno affrontati nel tavolo successivo con il prefetto riguardo anche alle ultime misure riguardo all'ordine pubblico e la sicurezza antiterrorismo. La Comune di Lovere si sta comunque preparando per affrontare anche questo argomento creando quella sicurezza necessaria per i grandi eventi e per la presenza di numerosi visitatori in spazi piuttosto ristretti. Quindi in questa riunione prossima verranno definiti anche questi dettagli che prevederanno molto probabilmente la presenza di barriere anti passaggio di veicoli e quindi maggiore sicurezza per i visitatori che domenica 3 saranno presenti all'Overe. Intervento della protezione civile di Clusone nel primo pomeriggio di oggi a Castione della Presolana sul Monte Scanapà per portare acqua a un'azienda agricola con una trentina di animali tra bovini e ovini rimasta senza risorse idriche. Secondo quanto ci ha spiegato il responsabile della protezione civile di Clusone Roberto Torri uno dei compiti del servizio di protezione civile è anche la salvaguardia degli animali e la richiesta dell'intervento è pervenuta attraverso il 112. Intorno alle 12 di oggi una squadra con tre mezzi di cui anche l'autocisterna della comunità montana ha permesso di portare acqua in quota e di riempire le riserve idriche dell'azienda agricola. Da lunedì sulla strada provinciale che da Brescia porta al Lago di Zeo nella zona di Rodengo-Saiano è stato acceso un nuovo autovelox. Sulla provinciale 510 sembra che ogni giorno il Marchingegno abbia macinato numerose multe. Il limite, lo ricordiamo, sul tratto è di 90 km orari. Pare che mediamente l'autovelox abbia elevato circa 200 contravvenzioni al giorno. A parre la palestra comunale è stata interessata da un intervento dall'importo totale di circa 200 mila euro con un contributo regionale di 99 mila e 500 euro. Sentiamo il sindaco Danilo Cominelli. Ecco, è in fase avanzata l'intervento al centro sportivo di Parre. Sì, abbiamo ormai concluso i lavori interni ed esterni alla palestra comunale. Una riqualificazione generale dal punto di vista energetico, un restyling alla nostra bellissima palestra. I lavori sono quasi terminati, aspettiamo una variante per l'utilizzo delle economie per sistemare ancora alcuni dettagli nella palestra. Comunque la palestra, sin dall'inizio della scuola, sarà operativa. Permetteremo quindi ai nostri studenti di agevolarsi di questa struttura. Nel frattempo abbiamo utilizzato i 10 mila euro ottenuti dal contributo di comunità montana anche per una riqualificazione della nostra piscina. Ci eravamo accorti che alcune travi della piscina erano ammalorate e abbiamo subito quindi imbastito tutti i lavori per cercare di sistemare dal punto di vista strutturale queste travi. Il problema è dovuto ovviamente alla presenza di cloro e alla presenza di umidità nella nostra piscina e il nostro obiettivo quindi era quello di intervenire immediatamente su questo aspetto. L'impresa sta già eseguendo i lavori, un importo che si aggira totale su 15 mila euro in attesa poi di aspettare eventualmente altri bandi per dare anche per la nostra piscina una riqualificazione generale dal punto di vista energetico. E sulla gestione della struttura? Sì, l'anno scorso abbiamo prorogato la gestione della piscina alla Radici Nuoto un'ottima società che ci riempie d'orgoglio perché oltre a sfornare campioni d'eccellenza ha veramente cura e cuore al nostro impianto natatorio. Alla fine dell'anno partirà il nuovo bando che si baserà, essendo un edificio di carattere economico si baserà appunto sulla migliore offerta che ci verrà proposta. Ci auguriamo ovviamente la continuità, però essendo bandi a livello nazionale potrebbe essere che ci sia anche un cambiamento. Ovvio che si guarderanno tutti gli aspetti economicità non vuol dire solo migliore offerta ma vuol dire anche garanzia affinché il nostro impianto sia conservato anche per quanto riguarda l'aspetto sportivo. In ogni caso noi imporremo nel bando che qualsiasi cosa succeda la Radici Nuoto troverà casa presso il nostro impianto natatorio. Questo perché ormai una squadra così importante su tutto il nostro territorio non può non avere una struttura dove allenarsi adeguatamente. È un nostro obiettivo, quindi nel bando scriveremo che appunto chiunque vinca ci dia la possibilità di nuotare gratis a questa importante squadra di nuoto. Solenni celebrazioni oggi a Bergamo per il patrono Sant'Alessandro. Sentiamo un pezzo dell'omelia del Vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi. 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 Celebriamo la festa del nostro patrono nel segno della speranza. dobbiamo subito dichiarare che la speranza dei cristiani non è e non può essere una testimonianza individuale la speranza dei cristiani è una speranza universale nel momento in cui questo avviene la speranza diventa un modo di esistere un modo di essere uno stile di vita un esercizio quotidiano l'ideologia non può mai generare speranza perché la speranza appartiene a un futuro che continuamente ci supera come quando si sale in montagna e si arriva ad una vetta eppure si vede un orizzonte ancora più grande di quello che si vedeva prima da cristiani dobbiamo proprio essere i primi a guardare con l'occhio del Signore le primizie rappresentate dalle giovani generazioni non per caricarle di attese nostre a volte proprio improponibili e che noi abbiamo disatteso ma invece per aprire loro quel futuro che appunto si rivela per un cristiano sempre inesauribile e come il Papa più volte ha affermato che i vecchi siano capaci di sognare per aprire un futuro ai più giovani una pausa tra poco grazie a tutti rieccoci in onda con il telegiornale di Antena 2 alcune sue barzellette hanno ottenuto in pochi mesi diverse centinaia di migliaia di visualizzazioni parliamo di Giuseppe Morotti in arte all Morotti lo abbiamo incontrato ieri sera a Piaglio in occasione della prima serata della festa del centro sportivo ecco soprattutto sui social network si è ritagliato una certa fama come barzellettiere ma da dove nasce questa sua passione? la mia passione c'è sempre stata perché io sono sempre uno che ha raccontato barzelletti già da 40 anni però tre anni fa un mio amico, un mio carissimo amico era seduto in parte a me al ristorante dopo che ne avevo raccontato una ventina ma ha registrato con il telefonino una delle più famose, la Marisa e l'ha mandata in Whatsapp il giorno dopo mi ha chiamato l'aveva messa sulla sua pagina Facebook subito 10.000 visualizzazioni il giorno dopo 20.000, 30.000 allora da lì in poi siamo entrati diciamo in questo circuito però io non ero tanto propenso poi mia figlia ha sessionata dalle sue clienti dove lavora in un centro estetico che gli chiedevano dove posso trovare il barzelletto tuo papà e allora lei mi ha creato la pagina Facebook e da lì è tutto e adesso è venuta automatica diciamo anche una cosa che io in giro ce ne sono una cinquantina 60.000 però il mio amico quello che mi riprende sempre lui mi ha detto che ce ne ha 120 o 130 nel suo computer quindi vanno poi quello che continuo sempre a dire io la cosa che io voglio che mi diverto io se io non mi diverto a raccontare non le racconto più cioè che quando vado in giro con i miei amici è una serata balorda se mi va a metà mi fermo cioè mi stanco smetto se non mi diverto io si capisce che non mi diverto però la prima cosa che mi va a me è che mi devo divertire e devo vedere la gente che si diverte perché se non vedo nessuno ridere andò a cacca alle mei spontaneità e memoria credo che per raccontare le barzellette servano queste due caratteristiche che io ad esempio non ho sì sì no la memoria è una io sono uno che ha molto memoria io voglio puntualizzare io sono sempre fatto l'atleta io sono un maratoneta che racconta le barzellette ho iniziato 11 anni a correre quindi 47 anni che corro mi ricordo i tempi di 40 anni fa come faccio a non ricordarmi le barzellette che le racconto tre volte a settimana e anche di più quindi è la cosa che è una cosa che mi piace quindi quando una cosa ti piace te la ricordi le cose spiacevoli non te le ricordi serve anche una buona compagnia sì sì serve una compagnia io ho sempre i miei amici che andiamo sempre in giro e ci divertiamo noi registriamo sempre in compagnia perché ci vuole l'atmosfera per registrare le barzellette e principalmente ecco particolare io non bevo perché di solito tutti un bel bicchiere di vino io sono astemio totale quindi diciamo che non sono uno che racconta le barzellette perché è ubriaco ma le racconto perché mi piace raccontarle ecco spesso ci sono dei personaggi a volte ricorrenti ma i riferimenti sono solo per poter raccontare le barzellette è puramente casuale quello che dico sempre io quando racconto le barzellette che c'è gente che non conosco dico sempre la barzelletta è fine a se stessa io non voglio mandare messaggi a nessuno perché qualcuno si offende ma offendere che cosa? la barzelletta uno deve ridere e basta perché io tocco uomini, donne, bianchi, neri, meridionali preti, suore e tutto però non voglio assolutamente offendere nessuno i carabinieri cosa dovrebbero dire? che avrebbero da fare una strage e quello che voglio dire tante volte sono proprio loro i meridionali mi raccontano di quelle barzellette che sono sui meridionali e sono proprio loro anche i ragazzi di colore quando racconto i ragazzi di colore che loro capiscono bene il dialetto fanno di quelle risate che io proprio non voglio offendere nessuno anche il discorso della volgarità la volgarità come mi ha detto un ex direttore dell'Eco di Bergamo che mi ha detto la volgarità è nella testa delle persone da chi la vuole ricevere io non voglio assolutamente essere volgare non è nel mio carattere è una barzelletta veloce per il pubblico del telegiornale di Antena 2? orco cane allora io dico sempre quella c'è un ragazzo di colore che è fermo sotto i portici a Bergamo e c'è un pappagallo alto un metro sulle spalle arriva una signora gli guarda e gli fa osti che bello che razza è? e il pappagallo risponde mi ha detto è un niger ha risposto il pappagallo al momento questa non arriva subito però va tantissimo quando sei nelle serate va tantissimo è logico che ci vuole sempre l'atmosfera prima serata a base di rock un brano proprio della serata di ieri è una barzelletta veloce per il pubblico è una barzelletta veloce per il pubblico è una barzelletta veloce per la è una barzelletta veloce per la e ora continuiamo con le previsioni del tempo buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2 estate protagonista ancora sul nostro territorio a causa di una vasta circolazione anticiclonica che garantirà stabilità e bel tempo ancora per diversi giorni parliamo della settima onda di calore che quest'estate 2017 sta interessando il territorio italiano pertanto nei prossimi giorni assisteremo anche a un deciso aumento delle temperature pensate che a Clusone le temperature torneranno anche quasi a toccare i 30 gradi nella città di Bergamo 32-33 gradi vedete domenica sarà una giornata caratterizzata domani dal bel tempo a causa dell'espansione di una vasta cupola anticiclonica l'anticiclone delle azzorre che verrà a interessarci proprio a partire dalla settimana prossima quindi determinando un cielo in prevalenza soleggiato quindi pertanto l'estate non vuole abbandonare il nostro territorio per diversi giorni e le perturbazioni sono costrette appunto a transitare a latitudini più settentrionali vedete infatti questa vasta area anticiclonica che interessa il centro ovest del Mediterraneo ma tocca anche il nord Italia il settore alpino e prealpino orobico e quindi bel tempo e clima gradevole per i prossimi giorni andiamo all'evoluzione del tempo per la giornata di domani domenica che vede una giornata soleggiata un cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso su gran parte del nostro territorio ho indicato i consueti annuvolamenti a carattere cumuliforme pomeridiano nella zona più settentrionale della Val Seriana l'Alta Val Seriana la zona della Val di Scalve l'Alta Valle Camonica dove non si esclude specie nei settori più di alta montagna qualche locale piovasco nel corso delle ore centrali ma di breve durata e di scarsa intensità poi nel corso del tardo pomeriggio avremo un deciso rasserenamento come è classico sui nostri settori nella zona della Medio-Bassa Valle Seriana e Lago di Iseo splenderà il sole per l'intera giornata farà anche molto caldo anche se sul Lago di Iseo avremo una mitigazione del caldo dovuta alle brezze che si attiveranno proprio in prossimità del nostro Lago di Iseo pressione atmosferica intorno ai 1019 millibar quindi a indicare una zona anticiclonica e uno zero termico che si posizionerà intorno ai 4000 metri di altitudine quindi a quote ancora molto elevate per il periodo evoluzione del tempo per la settimana in Valle Seriana che vede una giornata lunedì soleggiata con clima decisamente estivo anche caldo sul nostro settore vedete le massime a clusone potrebbero toccare anche i 29-30 gradi sebbene la mattina le temperature saranno abbastanza gradevoli intorno ai 18-19 gradi con uno zero termico ancora molto elevato a 4100 metri di altitudine martedì sarà un po' la fotocopia della giornata di lunedì con giornata soleggiata con sole splendente cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso qualche annuvolamento consueto sulle nostre montagne ma nessuna precipitazione temperature ancora a clusone molto alte intorno ai 27-28 gradi ma a Bergamo si potranno toccare anche i 31-32 gradi mercoledì abbiamo indicato un po' di variabilità nel senso che passa una coda di una perturbazione sulle Alpi e nel corso della giornata non escludiamo proprio dai settori più montuosi del nostro territorio qualche locale acquazione di breve durata qualche locale scoppio di tono ma nulla di particolarmente significativo ancora temperature elevate giovedì un po' come mercoledì con qualche locale annuvolamento nelle ore centra giornata e qualche locale acquazione ma nulla di rilevante con temperature in lieve calo vedete le massime a clusone intorno ai 25-26 gradi venerdì saremo ancora in compagnia di una giornata soleggiata e di bel tempo che probabilmente ci porterà ancora un fine settimana in compagnia del sole e del bel tempo su gran parte del nostro territorio orobico e se vi interessa faremo un approfondimento nella trasmissione decoder alle ore 20 e 30 mercoledì sera con il cambiamento climatico in atto e gli eventi meteo estremi che stanno interessando il nostro territorio in questa pazza estate 2017 e per il meteo è tutto vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2 una breve pausa tra poco terza ed ultima parte del telegiornale di Antenna 2 continuiamo con la programmazione televisiva questa sera sul canale 88 alle 20 e 10 trasmetteremo ti regalo una favola alle 20 e 30 il rotocalco alle 21 mondo crociera alle 21 e 45 Manolo Biscum alle 22 e 10 Salus TV alle 22 e 30 la seconda edizione del nostro telegiornale alle 23 e 15 colpa d'Alfredo e alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro notiziario il telegiornale verrà riproposto anche alle ore 21 e 30 sul canale al numero 218 Nel Manacco per domenica 27 agosto il sole sorge alle 6 e 30 e tramonta alle 20 e 13 il culmine è alle ore 13 e 22 la durata del giorno è di 13 ore e 43 minuti la luna sorge alle 12 e 32 e tramonta alle 23 e 14 minuti la fase lunare la luna è crescente ed è visibile al 38% la chiesa ricorda Santa Monica e con questo è tutto grazie per la vostra attenzione e buona serata ... ... Grazie a tutti.